bentornati su ogni momento io sono marco oggi vi presenteremo il nuovo video che claudio padovani ha fatto per noi claudio è insegnante di meditazione e counselor di come meditare punto it in questo bel video ci spiegherà se è meglio meditare da soli o meditare in gruppo un bellissimo video da guardare con molta attenzione io vi auguro buona visione a presto grazie ciao ciao e benvenuto da claudio padovani di come meditare puntetti oggi voglio ragionare un attimo su un aspetto cioè è meglio meditare da soli o meditare in gruppo perché le persone si riuniscono a meditare in gruppo beh innanzitutto quando meditiamo meditiamo da soli anche quando siamo in gruppo nel senso che ci chiudiamo noi stessi indaghiamo su di noi e quindi questa cosa di meditare da da soli è sicuramente una cosa utile da fare anche perché spesso noi siamo soli e ritrovarci da soli un pochino è anche il senso ultimo della meditazione moltissimi cominciano proprio così cominciano da casa da soli magari dopo aver letto un libro si sono incuriositi hanno cominciato a studiare meditazione applicandola su se stessi ma allora perché ritrovarsi insieme perché esistono dei gruppi di meditazione perché esistono dei gruppi di meditazione online dei corsi dei libri e quant'altro perché per quanto sicuramente il libro ti ti dà legge un libro e ti fai un'idea poi ne leggi un altro e capisci che quell'idea forse era un po' viziata alcune interpretazioni anche se rileggi lo stesso libro che avevi letto all'inizio puoi scoprire che che forse c'è altro che forse non significava proprio quella cosa spesso infatti meditare da soli ci può indurre un po' in errore possiamo viziare la pratica meditativa e ripetere gli stessi errori quindi il gruppo ci aiuta invece a vedere le difficoltà degli altri confrontarle con le nostre vedere anche delle domande che gli altri fanno a cui tu comunque non avevi neanche pensato per non parlare di tutte quelle domande che tu hai a che grazie a un insegnante o un maestro possono trovare risposta questo da un punto di vista cognitivo ma diciamo che il vero motivo per cui può essere utile e meditare con altri è proprio a livello energetico puoi notare se non l'hai mai fatto che quando si medita in gruppo c'è un'energia molto diversa da quella che puoi avere quando mediti da solo quello che avviene di fatto è una trasmissione energetica proprio che puoi avvertire proprio la concentrazione maggiore quando c'è un gruppo di praticanti e calcola che questa cosa a me capitava anche in carcere voglio dire quando andavo in carcere a portare la meditazione tendenzialmente noi siamo abituati a giudicare a pregiudicare i pregiudicati e in realtà ovviamente il la qualità più alta di ciascuno di noi è insita in ciascun essere umano no si dice che in ciascuno di noi c'è il potenziale del risvegliato in termini buddhisti si dice che in ciascuno di noi c'è un potenziale buddha c'è un potenziale risvegliato se noi parliamo se la nostra parte più nobile si mette in frequenza con la parte più nobile di qualsiasi essere quello che ne esce fuori è una un qualcosa che è più dell'insieme delle parti ovvero il mio potenziale buddha si somma al potenziale buddha di un carcerato che sta con un altro carcerato ma in quel momento non sono più carcerati non sono più io siamo soltanto dei potenziali buddha che si mettono in frequenza tra di loro e si uniscono in quella frequenza e quello che ne esce è molto più che la somma delle singole frequenze innanzitutto perché ciascuno accresce quella dell'altro e poi perché l'insieme il gruppo appunto ha una qualità in sé che si aggiunge a quella degli altri quindi la somma è molto più c'è il risultato è molto più che la somma dei singole singole parti questo è proprio anche un concetto il concetto che è alla base dell'olismo del resto anche i miei organi messi insieme io sono molto più che la somma dei miei organi questo va da sé perché se mettessi i miei organi insieme basta probabilmente non avrei io non ci sarebbe neanche vita comunque tornando lasciando un attimo il discorso dell'olismo tra l'altro anche da un punto di vista energetico l'insegnante ha un po il ruolo di mantenere un po la pratica poi se non c'è un insegnante ma c'è un un coordinatore sta un pochino a lui e gestire questo ruolo però mi piace pensare che è proprio anche il gruppo che favorisce questa questo clima in sintesi tornando un attimo al discorso allora è bene meditare da soli certo certo non è che si riesce a meditare in gruppo a trovare sempre un gruppo a portata di mano ma avere la possibilità di connettersi da altri per fare questa cosa è sicuramente una cosa positiva io lo propongo persino online quindi persino in line si può fare però certo dal vivo la differenza c'è ma se tu stai seguendo questo video e quindi sei iscritto a questo canale di youtube e stai seguendo questo video e altri video analoghi probabilmente già il fatto che tu metti la tua frequenza in linea con il contenuto anche se digitale questo accende te qualche cosa più facciamo però ovviamente è più questa energia si sviluppa dentro di noi quindi a un certo punto se hai cominciato per conto tuo se stai vedendo i video se stai continuando a praticare senti che questa pratica ti dà dei benefici o addirittura se cominci a sentire che te li ha dati ma che a un certo punto non vai né avanti né indietro beh prendi considerazione di frequentare un gruppo un gruppo di praticanti ci sono anche dei gruppi appunto come ti dicevo senza un vero maestro ma che si riuniscono insieme per per creare quella bolla di energia per sostenersi reciprocamente già questo è per mantenere viva la pratica e già questo secondo me fa la differenza se poi c'è un maestro di cui ti fidi un insegnante che sa trasmettere delle cose che tu capisci e che ti arrivano al cuore che sei in grado di non cogliere per giuste in assoluto una delle cose che mi piace soprattutto della tradizione antica del buddismo antico quello teravada è quello di dire metti in dubbio metti in dubbio quindi accogli con fiducia quello che ti viene detto questo sì ma poi lo metti in dubbio lo verifichi di persona perché e torniamo alla pratica personale solo se verifichiamo di persona le cose ne facciamo veramente esperienza altrimenti prendiamo per buono quello che ci viene detto ci crediamo per fede ma non ne facciamo esperienza e non arriviamo da nessuna parte quindi metti in dubbio mettete incontrati con altre persone praticanti se c'è un insegnante che sa arrivare al tuo cuore che sa attivare in te quell'energia per mettere in dubbio per realizzare per conto tuo quello che ti viene detto beh ti incoraggio a seguirlo se non ce l'hai già individualo magari nella tua zona se se ne esiste uno o insomma su questo canale youtube sicuramente troverai pan per i tuoi denti non mi resta altro che salutarti che tu sia felice e che tutti gli esseri siano felici